Allora eccoci qui, scusate il ritardo, ho avuto un po' di problemi tecnici se ti erano a scorsa e niente, ci ho messo un po' di tempo però eccoci qua, quindi la prima cosa da dire, complimenti a None che è diventato il primo King del Mike della storia del competition quindi settembre 2019, None è l'attuale campione in carica, il King del Mike adesso passiamo all'edizione di ottobre quindi ci avrete le prossime tre settimane per partecipare alla gara di ottobre trovate sulle pagine youtube e instagram il beat e come la volta scorsa trovate tutto quanto sulle pagine del King del Mike quindi bocca al lupo, scargate il beat e vedremo chi vince a ottobre dai regà!